Il progetto è nato già ormai cinque anni fa. Ci sono voluti tre anni per trovare i fondi per fare questo film, perché è un film costato di 210 mila euro, 80 mila euro dei quali trovati in crowdfunding, quindi è stato difficilissimo trovare i soldi per farlo. Ci credevamo, venivamo dal nostro primo film che si chiama Funzione Fumattina, che ci ha dato grandi soddisfazioni, è stato produttivamente difficilissimo da realizzare, sia dove è stato girato, perché è stato girato in una zona non semplicissima, irraggiungibile. Logisticamente è veramente una grossa scommessa professionale. Solo la professionalità di un non professionismo vi ha consentito di riuscire a tirare fuori qualche cosa da una situazione del genere. Esatto. Poi la grande incognita è stata quella di trovare una distribuzione in sala, visto che un grosso distributore non sarebbe stato disponibile a prenderci, allora abbiamo deciso di autodistribuirci, come avevamo fatto con il nostro primo film, e quindi è nata questa avventura, per adesso siamo usciti il primo marzo, è andata molto bene, quindi speriamo di continuare. Siamo partiti, diciamo, dal Piemonte, è stato subito veramente un grandissimo successo di pubblico, è partito un passapallone incredibile, le persone hanno amato questo film e ha superato le nostre stesse aspettative, quindi è stato incredibile. Il pubblico ha veramente accolto il film bene. Adesso stiamo uscendo piano piano fuori dal Piemonte e vedremo come va. Devo dire che narrativamente è cucito in maniera pregevolissima, con una grande sapienza e con una grande capacità narrativa. Devo dire che mi ha affascinato vederlo. Ritengo che la narrativa, quando si inventa qualcosa di nuovo, va seguita e va proposta e va portata in giro, altrimenti diventi un mero strumento di rappresentazione, un edonismo scatenato, io so bello, io so forte, allora faccio l'attore, che non mi interessa, non mi è mai interessato. Ho fatto quasi 20 anni di teatro per questa ragione, ho fatto quasi 50 anni di mestiere tra cinema e teatro, seguendo questo. Sono stato anche guardato e trattato come un beota, però sono assolutamente convinto che fosse la strada giusta da perseguire. In questa occasione qua, intanto mi sono rivisto ragazzo, e questo è imbattibile nella vita di un uomo poter tornare indietro nel tempo. Ma soprattutto ho visto in un mondo che sembra deserto in questo momento, della gente credere in quello che faceva e portare fino in fondo quello che credeva e faceva esattamente quello che era necessario per far vivere quello in cui credeva. È stata un'emozione, ho imparato molto. Umanamente, tecnologicamente credo loro stessi siano i primi a dire che potevano avere di meglio e fare di meglio, ma un risultato così, con una grandissima produzione multimilionaria, sarebbe difficile da raggiungere.